ok il gioco effettivamente sono taggiotomatiche ok ok atto finalmente il cuore di armian e neil ma io l'asso stammoletto perchè ma io ho tornato le mondo tremble dove sono i piedi tu f*** tu hai solo un po' del cuore e io ho solo un po' del corpo Sì, dà me il tuo corpo per completare la mia resurrezione. Non è proprio il plan che avevo in mente. Se ti chiede la capacità... Per dare me il tuo form, trovi un vettore vero! Do you know how hard it is to keep that voice up to scare people? Non ho tempo per farlo a tutti i heroi in Iboria. Inoltre, i'll lure them to me! Oh, but how? Free hot oil massages? No, I've got it! A contest of the brave! No muscle-bound fool could resist! I'll conjure a wrath-a-thon! Un po' alto il volume, adesso lo abbasso. Quanto finisce qua la cazzina? Un po' alto il volume. C'è così? Facciamo così. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. con abelite paladite valeria con anna nella demo c'è solo con uguali ma no ma c'è roba allora spacca scuri, scatto letale, salto alla pioza, rotolata in battaglia quando salta in avanti si scaglia sul terreno sorgendo e infincendo danni a tutti i nemici verti, rotolata in battaglia, ah no, volante scarica danneggendo, questo mi interessa scatto letale, marenia, no mi interessa lo spacca scuri inizio le partite moncicatori pulire un'aria dei mici permette di suscitare tutti i giocatori sconfitti, ancora l'altro vuole, abbassare un pochino, ok ne fa tempo una taverna di mindia i nostri errori si scambia i racconti e i suoi ero di Hyboria, ho incontato un'arattona, il migliore di combattaggio che mai crea! Eccoci! Deveatli i 4 guardiotti e sarai rispondi sulle vostre immagini! Quando i 4 seals sono bruciati, entra il mio forte per ricevere il vostro rispondimento! Eccoci! Questa è la pente! Allora! Pieno affermati, quei tanti bui e pieni di alberi! Scoopy dungeon dalla foresta oscura per fare il primo passo nella tua avventura! Non basta ancora il volume! Opzioni! Così! Ah, prima è la metà! Passiamo così! Ok! Deve sconfiggere tutti i guardiotti di Tot Am! Comincia dal dungeon della foresta oscura! Consolo per ripristinare salute! Ok! 200... Ah! C'è 400! Vabbiamo! Certo! 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 L'argo! Lavoro duro per acquistare solo armi e provenienti dalla fioniera equa e solidale! Ok! Armatura del duolante! Scissione un piscicone e risparmi un piccolo... Aspetta! Dopo guardiamo se c'è qualcos'altro! Con la barba di com! Questo potrebbe essere il giorno in cui avrai successo! Oh! Compara... Comparte la nostra cotta di maglia di impuro acciaio! Aiuto! Mi hanno derubata! Mia nonna mi ha insegnato tutto quello che so! Tu che sei? Con mio testamento non hai difficoltà a sconfiggere Tontango! Tanto il pedone è stato eh... Va bene! Si mosse mettono in piedi città di Matteodoro in testa finché non muoiono! Cos'è questo? Oh! Compiamo... Ah! C'è anche l'arco! Agitata dei frecci aumentata di né... Arco... Non ho l'armatura! Ecco di! Ecco, ecco, ecco qui! Questi preferiti ammature compiamola! La diventate o doveaye? Eh, qua! Me la mettono già in automatico! Sì, penso di si e' ammuletta e in! Gravity... grandolo illaia ha eh eleaA 67 monete c'era quella l'ottanta non nel dungeon ma se lo facciamo qualcosa L'Ugitto del Dragone Paraglie e scatenano il nome un adulto che sturdisce infiggi danni crescente nemici più essi sono vicini vicini a noi Ancela più hanno un punto di benità Cosa c'è? C'è niente Questa è l'abilità Questa è l'arco Le spadate Ah così Scusa bisogna andare qua come faccio in Italia Trontrone arrivò nella nostra città coperta a manto nero nella notte senza luna Forse ne ho trovato la strada Intorno a strada dove cavolo è? C'ha detto? E di te che parli agli anziani? Te che vuoi? Non c'è vergogna di parlarsi di essi di studio Questa è la parata Puoi farci a entrare nel dungeon qua? Chi è? Discoviste tutti i guardiani Cominciare il dungeon dalla foresta oscura Eh se mi apri la porta forse O forse devo fare qualcosa Ah qua Ah to' va Pica pica Ajax Pica 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 Acqua è, bene Non da giù Ello che c'è l'alco Ah la bomba Come si fa ad usare l'alco? Ecco No, come si fa ad usare l'alco? Needs more bombs Needs more bombs No, l'ho usata qua No bombs left Facciamo l'alreno o che? E che c'è l'alco qua? Hmm Ah si ricarica l'alco, vedi E poi non riesco a usarlo Ah con questo Ok, ho capito come si usa Ah no 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 Qua si salta Ahia Qua si salta Appi forzieri Ah il forzile che era di là Non so che non c'è lì Qua ci vuole C'è un ostacolo qua Non so come si rompe qua Non mi piace là che c'è Il segno del teschio Ok C'è un boss No Ecco là forse si apre i forzieri Questo è questo Boh Eh ma non posso raggiungere dentro qua Qua è chiuso Dove è fanco Mi sa che è andato io Boh mi sa che è andato io Mi sa che c'è il boss qua Qua sopra Ah foresta scura Questo mondo mi fa sentire insignificante Il numero di scatti è lamentato Non compro niente Forse la matura Dopo vediamo E' un po' uccello Ogni ho detto Una cosa Come il sardo Alla nana Ma dati i soldi Ecco un po' la cura qua Ah, 2,50 Ammazza Cos'è il numero di scatti? Alla balda addosso Danni 20 Questa è la compone L'armatura al pedone 2 Dove sono? Ah, sono qua Ahia Sono con l'impatto Game world Adesso Casalama Oltre sto raggando Prova tu Ah, poi lo posso comparare a roba adesso Mi è venuta fame Vale appena qualcosa a mangiare Arrivo Ciao a tutti Grazie a tutti. 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 No? Ok? No? 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 No?